Rotary Cleaner è un apparecchio professionale per la pulizia delle spazzole e della strumentazione in generale. Per accendere Rotary Cleaner occorre premere l'interruttore generale su ON. I comandi sono semplici ed intuitivi. Il pulsante avvia la rotazione della spazzola elettrica girevole interna. Rilasciando il pulsante, la spazzola interna si ferma. Introdurre la spazzola o l'oggetto da pulire sulla spazzola elettrica girevole interna. A fine pulizia, rilasciare il pulsante. La spazzola interna si ferma in automatico. Periodicamente è necessario pulire sia le setole in nylon della spazzola interna girevole elettrica che il fondo di Rotary Cleaner dai residui di lavorazione.